Allora, dipende pure da che tipo di film uno vuol fare, no? Però non è che devi fare... Adesso è un'offerta, fai il protagonista... Io dico subito di sì, perché comunque il lavoro è il lavoro, non si dice mai più. E chi fai? Tu devi scegliere, chi vuoi essere. Il produttore mi dovrebbe dire se vuol fare una commedia, uno prende tra Figliolo e Arcuri... Ah sì? Beh, insomma, è una bella lotta. Devo dire che le vicende più tragicomiche sono quelle di Arcuri, Figliolo fa proprio più ridere lui. Quindi, insomma, è così. Ma come? Militare, la marcia... No, far ridere, a me far ridere... Ma no, ma non è un insulto. No, 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 ma certo, ma poi anzi, mettere il buon umore... Eh, esatto, mi piace Stopiglio, così, questa cosa. Mi piacciono le mostrine, insomma, mi diverte. E se invece dovessi fare un film, insomma, un po' più tristarello, un po' più così, il mio amico Speranza lo vedo perfetto. Insomma, sì. E lo sapresti fare, Speranza? Eh, non lo so, sarebbe molto difficile l'interpretazione, anche le physique du roll, insomma, siamo un po' lontani. Invece, un bello slide indoors, lo farei con i tuoi presidenti del Consiglio. Prima uno e poi l'altro. Prima uno e poi l'altro. Esatto, due fratelli, i gemelli, uno scompare, appare l'altro, chiede l'eredità. No, no, era mia, no, invece guarda che so più bravo io. Spostati un attimo. Spostati un attimo, fa la campanella così. Senti, non so.